Bentornati amici del Calcio Magazine, ultima puntata della settimana dedicata a tutto Milan, lo spazio a cura della nostra redazione che analizza e approfondisce i temi di attualità sul mondo rosso-nero. Come di consueto, ha ampio spazio alla rassegna stampa. Vediamo quindi come aprono i principali quotidiani e sportivi disponibili oggi in edicola. Partiamo dalla gazzetta dello sport. Di spalla la rosa è a titola. Pippo Albivio si aggrappa al 4-4-2. Oggi destro. Milan, obiettivo Europa col modulo che piace Berlusconi. Attesa in giornata la risposta del romanista. Il Corriere dello Sport ha tutta pagina. Destro dice sì al Milan. Gagliani, missione romana a casa di Mattia per convincerlo ad accettare il trasferimento in prestito. Atteso l'ok. In giornata dovrebbe essere già a Milano. La Roma pressa Luis Adriano, ma è pronto anche con Oplianca. Di spalla leggiamo. Allegri vuole Osvaldo o Pazzini. Malo Tito? C'è anche la Lazio sul milanista, perché Bergessio per ora chiede troppo. Ci spostiamo ora su tutto sport. C'è destro? Gagliani tratta il citofono. La D ieri a casa del bomber. Il Milan aspetta il sì per oggi. Tutti retroscena sulla conferma di Inzaghi. I tifosi a Montolivo. Togliti la fascia. E allora, adentriamoci sulle pagine dei quotidiani di oggi tracciando il punto della situazione in casa Milan insieme al nostro direttore. Tifosi rossoneri, amici del Calcio Magazine, ben trovati. Due giorni dopo l'eliminazione del Milan dalla Coppa Italia andiamo a vedere come titolano i quotidiani sportivi oggi in Edicola. Partiamo dalla Gazzetta dello Sport che scrive Milan c'è bisogno d'Europa. Pippo si aggrappa al 4-4-2. Il cambio di modulo è il tema principale sui quotidiani sportivi in Edicola oggi. Per salvare la stagione il tecnico deve arrivare almeno quinto. Ci proverà col modulo che piace a Berlusconi, quindi con due punte e non con il tridente offensivo. Con destro da 9 e Menezze seconda punta. Andiamo a leggere nel dettaglio insomma cosa scrive la Rose. Al Milan ha ancora 4 mesi e 18 partite per meritarsi almeno una sufficienza il 6 in Pagella. Le prossime sfide che vedranno appunto impegnato il Milan sono quelle di Parma, Juventus, Empoli. Queste sono le avversari ovviamente dei Rossoneri e Cesena. Un bottino di 9 punti sarebbe un bel modo per ripartire. Insomma questo è quanto scrive la Gazzetta. Ieri i Rossoneri hanno effettuato una giornata di scarico fisico. Oggi riprenderanno regolarmente ad allenarsi in vista appunto della prossima partita di campionato. Oggi Inzaghi paverà al gruppo del passaggio di modulo dal 4-3-3 al 4-4-2 con l'aggiunta probabilmente di Mattia Destro che è l'obiettivo numero uno dei Rossoneri vicino al Milan. A un passo dal Milan manca praticamente la firma. C'è l'accordo tra il Milan e la Roma. Di spalla la Gazzetta scrive gli scenari. Anzi Inzaghi è sotto esame permanente. In estate probabili novità in panchina ma se cambiasse marcia Gagliani. Le dichiarazioni di Gagliani di ieri pippo saldo. Andiamo nel dettaglio. Se il Milan riattaccasse la spina e cambiasse marcia Inzaghi potrebbe anche continuare il suo mandato. Quindi saranno mesi decisamente infuocati per il tecnico Rossonero. Passiamo sempre sulla Gazzetta. Passiamo ai temi di mercato come accennato. Destro sì. Rossonero ha un passo. Oggi l'attesa risposta a Gagliani. Ieri l'incontro con la D del Milan a casa dell'attaccante che deciderà stamattina. C'è ottimismo. Già firmato l'accordo con la Roma per il prestito con diritto di riscatto. Un lungo faccia a faccia ieri con l'attaccante. Adriano Gagliani si è letteralmente fiondato a casa del giocatore. Il nodo dell'aumento di ingaggio richiesto sembra essere stato risolto positivamente per l'attaccante che ricordiamo oggi guadagna circa 1 milione e 500 mila euro all'anno e approderà al Milan guadagnando 2 milioni e 500 mila euro più bonus per quattro anni. Gagliani l'obbligo di riscatto non può assicurarlo aggiunge la Gazzetta ma ha rassicurato tutti della volontà di costruire un rapporto duraturo. Passiamo al Corriere dello Sport che traccia un bilancio della carriera di Mattia Destro. Mattia la sfinge, il bomber con troppi dubbi, l'ansia di emergere, l'infortunio e grandi rifiuti. È quel vizio di sentirsi perennemente incompreso. Insomma il passaggio di Mattia Destro al Milan potrebbe segnare nella carriera del giocatore una svolta se lo augura ovviamente il giocatore e se lo augurano ovviamente i tifosi rossoneri. Frenato alla Roma dal confronto con Totti e dal calcio di Garzia diverso dalle sue abitudini. Questo è uno spunto insomma del Corriere dello Sport che poi aggiunge insomma a firma di Furio Fedele un report, un'analisi dei tanti parametri zero che in questi anni sono approdati al Milan. Ricordiamo che in occasione della partita di Coppa Italia la curva sud rossonera ha criticato pesantemente la D del Milan per le scelte che insomma ha effettuato ha fatto in questi anni poco convincenti. I tifosi rimproverano a Gagliani 21 giocatori svincolati che hanno tradito le attese e appesantito le casse del club. Il titolo parametri zero ma non sono tutti come Menezze poi insomma una curiosa tabella con una serie di nomi. Certamente scrive Furio Fedele nel suo articolo il super affare di questi ultimi cinque anni è rappresentato da Menezze che il Paris Saint Germain ha lasciato frettorosamente al suo destino. Ci spostiamo su tutto sport. I tifosi a Montolivo lascia la fascia. L'invito martedì notte dopo la sfida contro la Lazio ma la curva non considera da quale infortunio si sta riprendendo. Sotto esame a giugno la rivoluzione il capitano ha quattro mesi per dimostrare di rimanere. Insomma non soltanto Filippo Inzaghi è sotto esame ma tutto il Milan e in particolare il suo capitano. Negli occhi dei tifosi ovviamente rimane il retropassaggio sbagliato all'Olimpico di Roma contro la Lazio che ha lanciato close verso il 2-1 laziale. Eppure lo stop sbagliato l'altra sera a San Siro nei minuti di recupero mentre il Milan poteva ancora tentare l'ultimo sforzo per provare a pareggiare in Coppa Italia. Sempre tutto sport. È ancora presto ma inizia a delineare la formazione delle Milan che scenderà in campo contro il Parma. De Jong da valutare. Van Gingel sarà titolare. Da valutare appunto le condizioni di Nigel De Jong. L'olandese ha dato forfè martedì sera poco prima del fischio di inizio. Oggi allenamento sicuramente decisivo per il guerriero rosso-nero del centrocampo rosso-nero. Chiudiamo sempre su tutto sport. Il Savinzaghi ha due perché. Non ci sono alternative e Berlusconi ha capito che la Champions non è raggiungibile. Insomma il Milan ha fatto valutazioni molto molto precise e puntuali e ha pensato insomma che evidentemente non ci sono allenatori in questo momento disponibili che possano far meglio o meglio possano risolvere i problemi del Milan. Certamente i numeri che sono insomma dicono molto non dicono tutto ma dicono molto sono chiari e emblematici. In quattro settimane il Milan si è ritrovato in campionato da meno 2 a meno 10. Insomma questo è quanto scrivono i giornali oggi in edicola. Grazie per l'attenzione. Appuntamento lunedì. Qualcosa di importante si è spezzato tra società, squadra e tifosi. Di certo il Milan sta attraversando uno dei momenti più delicati della sua storia. Come venirne fuori? L'analisi del servizio a cura di Fulvio Ferraboli. Un calciomercato senza anima e forse anche senza cuore o comunque un cuore senza un amore necessario. Il Milan ricerca oggi più che mai una sua identità per rafforzarsi, per venire a capo di una situazione che da anni si trascina stancamente e negativamente. Da una parte Adriano Gagliani, dall'altra Barbara Berlusconi e in mezzo Pippo Inzaghi. Chiamato a gran voce, voluto con timidezza e quasi remissione ma pur sempre, oggi, al comando delle operazioni sul campo. La telefonata di ieri del presidente Silvio Berlusconi tranquillizza il tecnico, incoraggiato anche dalle sicurezze delle promesse di un mercato invernale attivo. Di acquisti insomma. Può piacere o meno, ma la situazione del Milan è questa. Peccato che però gli affari, quelli con la A maiuscola, si facciano in estate e non per niente gennaio è soltanto una riparazione. È così che viene chiamato, giustamente. Da febbraio sarà una squadra che con qualche pedina diversa potrà ambire all'Europa League, ma non certo alla Champions. Per ricostruire ci vogliono anni e tanta pazienza. Soprattutto i tifosi, il cuore pulsante di una società, l'animo bastardo sempre pronto alla critica, ma anche magico nel sostenere fino in fondo la squadra. In tutti i più grandi amori ci stanno le critiche, le posizioni divergenti, gli striscioni a favore o contro un qualsivoglia giocatore o dirigente. Tutto costruttivo, tutto indispensabile. Le sconfitte e le vittorie sul campo vanno e vengono. È nel DNA di tutti gli sport, non solo del calcio. È nella difficoltà che vengono fuori le palle da entrambi le parti, ma l'unione deve rimanere il vero asse trainante tra trifosi, giocatori e dirigenze. Tutto serve per crescere, ma l'amore verso la maglia non può perdere di vista quella stella polare che indica la strada giusta da prendere a testa alta e con lo sguardo rivolto al futuro, che poi così lontano non è. La puntata di Tutto Milan di oggi termina qui. Grazie a tutti voi per averci seguito. Inviateci le vostre opinioni all'indirizzo mail redazionechiocciolailcalciomagazine.it Appuntamento a lunedì.